In bandiera del giudiciata, quando volete per voi, numero 6, 6, 6. Ed è Jessica ad andare tra i capi. Primo capo in arrivo accompagnato da Jessica. È la volta di Daniele. Il vitello c'è, bisogna andare a ricolire con il numero sbagliato, se ne occupa sempre Daniele. Mentre Simone sta sfruttando già tra i capi per andare a scovare il vitello con il numero giusto. Qualche succedimento da parte dei compagni di squadra per aiutare Simone. Si non ci mette certo tanto a portarsi il capo nel benside ed è già tutto pronto per la chiusura. 30 secondi allo scadere del tempo. Sono tre i capi nella zona alza del campo che svilano nel benside e chiudono. Tre i capi, uno, quattordici, sei paio. Tre i capi, uno, quattordici, sei paio.